Ce la metterò tutta e cercherò di essere incisivo, starò sul pezzo e porterò a casa i risultati. Così Renato Claudio Minardi durante la conferenza stampa di presentazione a candidato consigliere regionale. All'incontro, aperto dal segretario del PD di Fano Stefano Marchegiani, erano presenti gli assessori Marina Barniesi e Carla Cecchitelli e il consigliere Rosetta Fulvi che probabilmente lo sostituirà alla presidenza del Consiglio. Non farò mancare il mio lavoro all'ufficio di presidenza, ha precisato Minardi, ma d'altra parte ho deciso di sospendermi da vice segretario provinciale del PD fino al giorno delle elezioni previste per il prossimo 31 maggio. Il suo obiettivo principale è quello di affrontare la campagna elettorale definita da lui stesso molto competitiva cercando non solo di essere eletto ma di portare un consigliere di maggioranza di Fano che possa essere allo stesso tempo un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale. Se ne è ravvisata molto la mancanza in questi anni di non avere un consigliere regionale di maggioranza del centro-sinistra in regione perché molte partite sono rimaste aperte. Mi verrebbe da ricordare la questione del dragaggio del Porto e la questione delle scogliere in Viale Ruggeri, la zona di Sassonia, dove ogni mareggiata continua a provocare danni e preoccupazioni anche alle famiglie e alle attività economiche che sono in quel territorio. È fondamentale per Minardi intercettare le risorse regionali per risolvere i tanti problemi ancora in atto quindi non solo la difesa della costa e l'emergenza del porto ma anche il tema della sanità e quello delle infrastrutture come la Fano Grosseto. Per questo motivo è importante avere una rappresentanza locale in consiglio visto che con il venir meno delle province alcune competenze passano alla regione tra queste il turismo, la cultura, il sociale, l'assetto idrogeologico, la caccia, la pesca e i trasporti. Gli impegni saranno quelli di stare sul pezzo ovvero di seguire tutta la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 perché risorse vengano a questa città ma anche alle due vallate del Cesano e del Metauro che con Fano lavorano insieme, che lavorano in collaborazione perché spesso e volentieri i progetti finanziati dalla comunità europea sono progetti di area vasta. Per quanto riguarda la sanità, secondo Minardi il luogo ideale per il nuovo ospedale potrebbe essere Fosso Segliore, essendo a metà strada tra Fano e Pesaro ma la scelta sarà dei sindaci, ha detto. L'importante ora è riguardare il piano sanitario con alcuni correttivi come ad esempio la mobilità passiva e le lunghe liste d'attesa. L'obiettivo è quello di far crescere l'attenzione nella città perché Fano possa in qualche modo ritrovare la voglia di vedersi rappresentata in regione attraverso una persona che in questi anni ha dedicato tanto tempo della propria vita alla propria comunità ma lo ha fatto con tanto impegno, con tanta dedizione, con tanta lealtà e con tanto lavoro.